Fare i conti con l'ambiente, Ravea 2015 qui al MAR, una conferenza sugli inerti, siamo con Carlo Faraone, responsabile della filiera di scariche di Rambiente S.P.A. Oggi voi racconterete anche qualche caso concreto, nell'ambito di questa tematica, anche di attualità se vogliamo. Certo, ci racconteremo dei casi concreti, nel senso che, come ogni discarica, la quantità di inerti che viene utilizzata non solo nella fase costruttiva ma anche nella fase di coltivazione ha una percentuale che varia tra il 15 e il 30% dell'intera massa di rifiuti che viene conferita. Ovviamente è un motivo di opportunità, nel senso da intendersi come risparmio in materie prime, cercando di riutilizzare le cosiddette MPS, materie prime e seconde, che sono sicuramente allo scopo atte, con caratteristiche ovviamente definite e circostanziali. Grazie, grazie dell'ambiente.